Ciao, questo è un trattore con un mangiatutto ed è un acquisto fatto grazie ai contributi comunitari, come puoi vedere dall'adesivo attaccato, questo acquisto è stato fatto utilizzando i fondi europei Coltiviamo il Futuro PSR, Piano di Sviluppo Rurale, per cui se anche tu come me vuoi iniziare o vuoi sviluppare una nuova attività agricola e vuoi scoprirne di più su quelli che sono i piani di sviluppo rurale, i contributi, gli incentivi che lo Stato ci mette a disposizione, clicca scopri di più, ti aspetto dall'altra parte, ciao!